Ciao bambini, benvenuti alla nuova lezione di tecnologia. Questa settimana proveremo a costruire insieme un oggetto da regalare al papà, perché tra qualche giorno è la festa del papà, il 19 marzo, quindi manca davvero poco. Mi raccomando, acqua in bocca! Io e la maestra Roberta abbiamo pensato questa settimana di unire le nostre ore, quella di arte e di tecnologia, per costruire questo manufatto. Io mi occuperò della parte tecnologica, quindi della costruzione, invece la maestra Roberta si occuperà della parte decorativa, quindi della parte artistica. Che cosa costruiremo insieme? Costruiremo una barchetta di carta, ok bimbi? Allora, perché di carta? Perché abbiamo parlato proprio della carta in tecnologia, abbiamo visto da dove si ricava, come si fabbrica, ok? Allora seguitemi! Allora bambini, per fare una barchetta di carta come queste dovete prendere un foglio di carta, ok? Un foglio come questi da stampante, ma va bene anche un foglio di carta da giornale, ok? Abbiamo parlato appunto di come si ricicla carta, come si riutilizza, quindi va bene qualsiasi tipo di carta. Vi consiglio della carta non decorata, perché così finirete di decorare la barchetta con la maestra Roby. Allora, prendete il foglio e lo piegate a metà, in questo modo. Poi piegate ancora il foglio, ancora a metà, ecco. Poi lo riaprite e incominciate a piegare il foglio, in questo modo, dalla parte chiusa, vedete qui è aperto il foglio, qui su, qui sopra, così, in questo modo, in questo modo, anche dall'altra parte, ok? Poi, vedete che è aperto, portate questa parte su e piegate, poi vedete questo pezzo di foglio che avanza, lo piegate e lo appoggiate da questa parte e così dall'altra parte, ok? Quindi queste due orecchette piegate così. Poi fate la stessa cosa con questi angoli, in questo modo e in questo modo schiacciate bene le pieghe, ok? Ecco, una volta ottenuto questo triangolo cosa si fa? Apriamo e la stessa cosa con questa parte, ok? facciamo venire fuori una specie di sito rongo, ecco, questo modo schiacciate bene, tiriamo su questa parte e lo facciamo combaciare con questo angolo, stessa cosa dall'altra parte, ok? apriamo, e voilà, ecco la nostra barchetta, ecco qui, ecco la nostra barchetta, aspettate che la apro così, eccola qua, ok bimbi?